I futuri diplomatici della Santa Sede dovranno svolgere 12 mesi come missionari al di fuori della propria diocesi di origine, lo ha chiesto il Papa al nuovo presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, l'istituzione che si occupa di formare inunzi apostolici. Domenica all'Angelus Francesco ha ricordato la bambina siriana morta per il freddo e ha ribadito che chi fa la guerra non è capace di dominare le proprie passioni. Non amare il prossimo significa uccidere se stessi, l'amore di Gesù ha spiegato aiuta a vincere i sentimenti egoistici e possessivi. Il prossimo Sinodo dei Vescovi si svolgerà nell'autunno del 2022, lo ha deciso l'Assemblea Generale Ordinaria nei giorni scorsi. Non si conosce ancora il tema che verrà affrontato durante l'assise e al Papa è stata consegnata una terna di argomenti per aiutare la sua decisione che arriverà in seguito. I sacerdoti che vogliano svolgere servizio diplomatico per la Santa Sede devono trascorrere un anno in qualità di missionari al di fuori della propria diocesi di origine. È quanto richiesto dal Papa attraverso una lettera inviata l'11 febbraio scorso a Monsignor Marino, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, l'istituzione che si occupa di formare i futuri nunzi apostolici. Sono convinto, scrive il Papa, che una tale esperienza potrà essere utile a tutti i giovani che si preparano o che iniziano il servizio sacerdotale, ma in modo particolare a coloro che in futuro saranno chiamati a collaborare con i rappresentanti pontifici e in seguito potranno diventare, a loro volta, inviati della Santa Sede presso le nazioni e le chiese particolari. Francesco sottolinea l'importanza dello zelo apostolico necessario per andare nei territori di confine, una qualità da acquisire nel quadro di un percorso basato sulla condivisione con le chiese missionarie di un cammino insieme alla loro comunità e sulla partecipazione alla loro quotidiana attività evangelizzatrice. Il Pontefice chiede che il progetto entri in vigore a partire dal prossimo anno accademico, prevedendo una stretta collaborazione con la Segreteria di Stato al fine di individuare le chiese particolari pronte ad accogliere allunni e a seguirli da vicino nel loro percorso. Sono certo, aggiunge il Papa, che superate le iniziali preoccupazioni il sistema servirà non solo ai giovani accademici ma anche alle singole chiese con cui questi collaboreranno e Miauro conclude che possa suscitare anche in altri sacerdoti il desiderio a svolgere un periodo di servizio missionario fuori dalla propria diocesi. Preparatevi a diventare ponti, pacificando e integrando nella preghiera le tendenze ad affermarsi sopra gli altri, facendo crescere le realtà che incontrerete, ricordando che la vera autorità della Chiesa di Roma è la carità di Cristo. È il cuore del lungo discorso che Papa Francesco ha rivolto ai dadievi docenti della Pontificia Accademia Ecclesiastica che prepara il servizio diplomatico per la Santa Sede. La sola forza che rende la Chiesa universale e credibile per gli uomini ha sottolineato è proprio la carità di Cristo. È il cuore della sua verità che non erige muri di divisione ma si fa ponte che costruisce la comunione del genere umano. Non siete chiamati ad essere alti funzionari di uno Stato, una casta superiore autopreservante e gradita ai salotti mondani, ma ad essere custodi di una verità che sostiene dal profondo coloro che la propongono e non il contrario. Coltivate radici profonde non lasciandovi inaridire dai continui spostamenti, ha detto ancora il Papa ai futuri nunzi apostolici. Non fatevi imprigionare da logiche ricordate o assoggettare da poteri politici e colonizzare dai pensieri forti. La vostra missione, ha concluso Papa Francesco, richiede la ricerca di pastori autentici, veri uomini di Dio, paterni con coloro che sono loro affidati, uomini insoddisfatti del mondo perché consapevoli della sua penultimità e della intima certezza che rimarrà sempre comunque bisognoso di quanto sembra disprezzare. Una bimba di un anno e mezzo che muore per il freddo in Siria. Il ricordo di Papa Francesco fa piombare nella crudeltà della guerra, delle calamità, ma anche nelle conseguenze gravi di passioni incontrollate, di azioni cattive che partono dal cuore, culla anche di bontà e di amore. È un viaggio tra le cadute e le risalite dell'uomo, quello che Francesco offre all'Angelus in piazza San Pietro, una riflessione sui comandamenti dati a Mosè e un invito a vivere la legge come strumento di libertà, a guidare i desideri perché non è bene, afferma il Papa, cedere a sentimenti egoistici e possessivi. Pensiamo alle guerre, pensiamo alle conseguenze delle guerre, pensiamo a quella bambina morta di freddo in Siria, l'altro ieri. Tante calamità, tante. Questo è frutto delle passioni e la gente che fa la guerra non sa dominare le proprie passioni. Le manca adempiere la legge. Quando si cede alle tentazioni e alle passioni, non si è signori e protagonisti della propria vita, ma si diventa incapaci di gestirla con volontà e responsabilità. Gesù sa che non è semplice vivere profondamente i comandamenti, per questo ci offre il soccorso del suo amore. Si tratta, afferma il Papa, di affidarsi a Lui, alla grazia, alla sua gratuità. È quella la via per dirsi davvero cristiani. Avrà luogo nell'autunno del 2022 la prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Un lasso di tempo così ampio potrà garantire un maggior coinvolgimento di tutta la Chiesa nella preparazione dell'assise. Lo si è deciso nella riunione che si è svolta dal 6 al 7 febbraio, a cui hanno partecipato i membri del Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Durante i due giorni si è discusso innanzitutto sul tema da affrontare nella prossima Assemblea Generale, nulla di definitivo in merito all'argomento è stato deciso. Comunque al Papa, che ha preso parte all'incontro del pomeriggio del 6 febbraio, è stata presentata una terna di temi possibili da prendere in considerazione prima della scelta finale. Nello stesso pomeriggio è stato affrontato anche il delicato tema dei fenomeni migratori in atto in molte regioni del pianeta, fenomeni devastanti questi che richiedono urgente solidarietà a parere dei membri del Consiglio Ordinario. Durante gli incontri si è discusso anche degli esiti dell'ultimo sinodo sui giovani e sulla risonanza della conseguente esortazione apostolica, Christus Vivit. Gli scandali finanziari mal si conciliano con la natura e le finalità della Chiesa. Sono parole del Papa pronunciate nel corso dell'inaugurazione del 91esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della città del Vaticano che si è svolta sabato presso il Palazzo Apostolico. Nell'occasione Francesco ha spronato i presenti a percorrere innanzitutto la via della giustizia, affermando che solo così è possibile edificare quella fraternità dove i più deboli e fragili possono essere tutelati. C'è però da dire che la giustizia da sola non basta. Ha bisogno di essere accompagnata anche delle altre virtù, soprattutto quelle cardinali, quelle che fungono da cardine, la prudenza, la fortezza, la temperanza. Agli ufficiali, avvocati e collaboratori del Tribunale ha ricordato che nel loro delicato compito di giudicare devono saper coniugare giustizia e misericordia. La fragilità di chi ha violato la legge per il Santo Padre va sempre tenuta in considerazione. Al momento di giudicare dovete essere voi, scavando nella complessità delle vicende umane, a dare risposte giuste, coniugando la correttezza delle leggi con il di più della misericordia insegnataci da Gesù. Francesco ha spiegato che anche le recenti riforme nella legislazione vaticana si muovono in questa direzione di tutela della persona umana e ha evidenziato inoltre gli sforzi compiuti dalla Santa Sede per contrastare l'illegalità nel settore della finanza a livello internazionale e anche all'interno dello Stato della città del Vaticano. Sono emerse situazioni finanziarie sospette, sulle quali sono ancora in atto delle indagini, che hanno visto un importante ruolo del corpo della gendarmeria per la sua attività investigativa a supporto dell'ufficio del promotore di giustizia. Un dato positivo è che proprio in questo caso le prime segnalazioni sono partite da autorità interne del Vaticano, attive, sia pure con differenti competenze nei settori della economia e finanza. Questo dimostra l'efficacia e l'efficienza delle azioni di contrasto, così come richiesto dagli standard internazionali. Infine il Papa ha affermato che pur essendo importanti i sforzi compiuti per migliorare il sistema giudiziario e le sue regole, la vera giustizia dipende dalla qualità e dalla rettitudine delle persone, in primis dei giudici, attori principali di questo sistema. In tanti ricordano il vescovo Nib Yunan come il luterano che, insieme a Papa Francesco, ha ricordato i 500 anni della riforma protestante. Questo fatto è accaduto a Lundi in Svezia quattro anni fa. Al tempo era presidente della Federazione Mondiale Luterana. Ammette che questo gesto è costato molte critiche a entrambi, ciò nonostante è aggiunto che ne valsa la pena per dimostrare che il dialogo è sempre possibile. Lund ha creato un'energia positiva, non soltanto per la Chiesa Luterana e Cattolica, ma anche per il movimento ecumenico. Se la gente vede che c'è unità tra di noi, segue i nostri passi. Se vede che noi combattiamo, si allontano. Uno dei frutti di questo evento è stato raccolto anche mesi dopo, nel 2017, quando i calvinisti, gli anglicani e i presbiterani hanno accettato anche la dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione. Munib Yunan aggiunge che gli effetti positivi del dialogo tra protestanti e cattolici non si limitano ai cristiani, ma si possono potenzialmente diffondere alle altre religioni. Il mio caro amico, dottor Muhammad Shamak, ha scritto a proposito di questa energia positiva. Lui è uno dei leader islamici di Beirut che promuovono il dialogo. Ha scritto, noi dobbiamo imparare come musulmani dai luterani e cattolici, come riconciliarci, in quanto sciti e sunniti, e non continuare a combattere per altri 500 anni. Ha richiamato al fatto che una delle missioni di ogni religione è insegnare la convivenza tra le persone di contesti diversi e aggiunge che è per questo che l'estremismo è un grande nemico. L'arcivescovo Yunan ora è in pensione, ma vive a Gerusalemme e viaggia nel mondo per diffondere questo messaggio. Entrando nella cattedrale maronita, Sant'Elia, abbiamo incontrato un italiano, Antonio, da Melfi, vi ha detto, quindi Basilicata. Antonio, lei per quale motivo è qui? Sono stato comandato dalla Ruben e Rollsbaum che dovevo insegnare a loro come fare questo lavoro. Non avendo più le risorse economiche ho deciso di farlo come volontariato, perché ho fatto il lavoro in Italia, la preparazione, avendo le difficoltà qua. Sentendo la voce del vescovo mi ha colpito, è come se ho trovato un angelo. Essendo un missionario il Signore mi ha illuminato di avere questo dono e così mi trovo qua a fare questo lavoro, con molta difficoltà con la lingua, però il gesto del volontariato è unico, pure che non si capisce la lingua. Lei è da 25 giorni qui? Da 20 giorni che sto qui. E sta quindi spiegando agli operai locali come utilizzare questa pietra, che è una pietra particolare? È una pietra particolare, ho usato il legno che è particolare e devo spiegare a farlo, diciamo, facevo prima a farlo. Quanto tempo pensa ci voglia ancora, ci vorrà ancora? Ci vorrà ancora un po' di tempo. Qualche mese ancora per portare a termine il restauro? Io adesso ritornerò in Italia, proprio il ritornerò. Lei lo sa, Antone, che questa è la chiesa simbolo, la chiesa martire, per certi versi, della città di Aleppo, perché tutti noi abbiamo visto le foto di questa chiesa sventrata, con il tetto completamente sventrato dalle bombe. E quello è il motivo che mi ha colpito a me di arrivare qua a dare questo contributo. Una mia riflessione è che questa gente va premiata per questo coraggio di ricominciare, di andare avanti nonostante tutte le difficoltà. Quanto è forte la loro fede, straordinaria? Secondo me è grande. Ci servirà a noi di stare un po' qua, per prendere un po' la fede, veramente, di prenderla. Però è un po' grande anche lei. Ok, grazie. I titoli dell'osservatore romano di lunedì martedì 17-18 febbraio. La guerra nasce dall'incapacità di dominare le passioni. All'Angelus il pontefice ricorda la bambina morta di freddo nella Siria devastata dai conflitti. Ambasciatori di una chiesa missionaria, la decisione del Papa di inserire un anno di missione nel curriculum formativo del personale diplomatico della Santa Sede. Apporti innovativi di Cherida Amazzonia, 33esima riunione del Consiglio dei Cardinali. Strage di donne e bambini in Camerun, attaccato un villaggio nel nord-ovest. Razzi nei pressi dell'ambasciata USA a Baghdad.